Questo è un banco da 75. Quindi, dirigente, questo banco non va bene? Dipende da dove lo vogliamo mettere. In un'aula gigantesca, spaziosa, solare, luminosa, sta benissimo. In un'aula più stretta mi crea dei problemi. Banchi vecchi, 60x75 cm, buoni per un'aula come questa, molto spaziosa. I nuovi in arrivo sono 60x60, alcuni simili acquisti adatti ad una sistemazione a conchiglia. Al Liceo delle Scienze Umane Duca d'Aosta di Padova, il metro non è ancora stato messo nel cassetto dal dirigente scolastico Alberto Danieli, che sta cercando di adattare le nuove esigenze a tutte le classi. 937 studenti sono pronti ad affrontare il nuovo anno scolastico, che partirà con una prima novità. Il primo giorno di scuola non sarà più un percorso come un tempo in cui tutti si arrivano a scuola magari in un orario scaglionato per accogliere le classi prime, ma si punta a far sì che alcuni ragazzi iniziano il giorno 14, altri il giorno 15, altri il giorno 16, per far sì che l'impatto di questa massa, di questi mille ragazzi, con i genitori, con gli accompagnatori, con i docenti, si gestisca un po' meglio. Nella scuola saranno create aree il più possibile isolate. Compartimentiamo la scuola in tre grandi settori, quindi abbiamo un ingresso A per alcune classi, B per altre, C per altre ancora, e proviamo a non far intersecare i ragazzi, ma i docenti vanno su e giù, io andrò su e giù nelle varie situazioni. Tutti in aula, la risposta per ora è no. L'idea è quella di avere sempre e comunque le classi meno numerose in presenza e una parte di classi fortemente numerose, noi abbiamo 17 classi che hanno o 29 o 30 alunni, e di gestirle con una presenza scaglionata, vuol dire che potrebbe essere così, di questi 30, 20 sono in presenza e 10, sempre a turno, sono collegati da remoto. Scuola a tutti gli effetti, anche a casa, l'esperienza dei mesi scorsi è servita, una scuola nuova pronta a cambiare e intercettare le esigenze degli studenti che per un anno diranno addio al compagno di banco, ma almeno torneranno in classe.